Lanfranco Palazzolo, Radio Radicale. Allora stamattina quando è venuta la delegazione del gruppo misto del Senato, il senatore De Cristoforo ha ricordato al Presidente della Repubblica la questione della legge elettorale che è una legge non democratica. Allora volevo sapere se avevate sollevato questo tipo di questione nei colloqui con il Presidente della Repubblica e in particolare ho visto che avete trattato anche le questioni internazionali se avete chiesto il rispetto del dettato dell'articolo 11 della Costituzione. Grazie. Abbiamo anche noi sollevato la questione della legge elettorale e della necessità di ristabilire un rapporto più forte tra istituzioni e elettrici e elettori, tra popolazione e chi dovrà e deve rappresentare le istanze, i desideri, le aspirazioni del Paese. Ovviamente abbiamo registrato e il Presidente naturalmente lo sa meglio di noi la distanza enorme che si è avuta in questa tornata elettorale dove il tasso di astensionismo è stato veramente diciamo preoccupante e anche è stato il segnale di un punto rispetto al quale veramente va cambiata la legge elettorale, la capacità quindi di tutto il Parlamento di assumere una posizione netta e propositiva rispetto a questo problema, assolutamente questo trasversale a tutte le forze politiche, ecco quindi su questo sicuramente anche noi avanzeremo le nostre proposte. Per quanto riguarda l'articolo 11 della Costituzione, il Presidente è il garante della Costituzione, non siamo andati. Grazie.